. Grande fratello, Kevin e Jessica sono tornati insieme Grande fratello, Kevin e Shebabby e Jessica Vella sono tornati di nuovo insieme. . È proprio il caso di dirlo, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ne sanno qualcosa Jessica Vella e Kevin e Shebabby che, a due anni dal primo incontro avvenuto al Grande fratello, sono tornati insieme. La storia della coppia è stata caratterizzata da numerosi tira e molla ma l'ultimo litigio sembrava quello definitivo. E invece nella vita nulla è certo e il modello e la siciliana si sono riavvicinati. Qualche mese fa Kevin ha addirittura fatto una breve incursione a uomini e donne come corteggiatore ma dopo una prima puntata ha deciso di lasciar perdere le nuove troniste Sarah e Niloufar per ritornare tra le braccia di Jessica. . Quest'ultima ha sempre aspettato il suo ex fidanzato, nel periodo di separazione ha preferito non frequentare altre persone. . Kevin ha fatto pace anche con Lydia, la gemella di Jessica. Il ritorno di fiamma tra Jessica e Kevin è avvenuto con la benedizione di Lydia Vella. . L'ex di Alessandro Calabrese non ha mai avuto un ottimo rapporto con i Shebabi. . Molteplici le incomprensioni tra i due, tanto che diverso tempo fa Kevin ha abbandonato la casa dove conviveva proprio con Jessica, Lydia e Alessandro. . Oggi Kevin condivide un appartamento con Niccolò Ragnolo, l'ex corteggiatore di Sabrina Gheo, ed è riuscito a trovare un punto d'incontro con la cognata. . . Proprio in una storia di Instagram pubblicata sul profilo di Jessica, si intravedono i due che camminano per strada mentre parlano con sintonia e complicità. . Jessica è tornata con Kevin, Lydia resta single. . Insomma, tutto è bene quel che finisce bene o forse no. . Se Jessica è tornata insieme a Kevin, lo stesso non è capitato a Lydia. . La protagonista del grande fratello non è tornata con Alessandro Calabrese come qualcuno ipotizzava mesi fa. . . Dopo che il romano ha lasciato Lydia per andare a corteggiare Sonia Lorenzini a Uomini e Donne i due non hanno regalato nuove sciance al loro amore. . Hanno però mantenuto un rapporto civile in memoria del passato che hanno condiviso. . 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